I know that it's a secret and I gotta keep it but I want the lights on, yeah I want the lights on and I don't wanna run away anymore Hi guys, fala galera la chicos, ciao ragazzi e bentornati sul canale dello zio Alphix Oggi in versione invernale, sono un po' influenzato, ho il vomit e tutto Però raga non volevo mancare l'appuntamento di un video con la facecam per il primo video di Dainbow Six Faremi sapere se vi piace Sto facendo la Road to Diamond, inaspettatamente sono al Platino 2 E niente raga, andiamo a fare questa cosa, sto giocando da solo, praticamente quasi sempre gioco da solo Non conosco nessuno, solo quest'ambone ogni tanto l'ho incontrato e mi pare che non era scarso, anzi tutt'altro Quindi raga andiamo a prendere Toucher perché giochiamo qui in confine, già so che nessuno lo prende Siccome giocavo per la squadra, va bene così dai Ok hanno anche Vigile raga, mi sono salvato il drone da Ela Che ha aperto anche un po' qui, quindi qui non lo fa più nessuno sto Spoonkill Qua dobbiamo stare attenti raga Ha aperto sotto, non sopra Ok, questo mi fa il giro di qua raga, sono convinto Non mi uccidere ora, non mi uccidere Porca eva lo sapevo raga Che c'è qualcuno qui lo sapevo Ok, ucciso, perfetto raga Manteniamo, manteniamo, manteniamo Potrei andare a dronare Dove cazzo c'è il drone raga? Sono in una posizione di merda io però, buono, buono il compagno Mikano Frosso no Perfetto, qua c'è Doc Sentite, io dentro c'è Doc, tanto lì Ok raga, non vedo un cazzo Ah, volevo farlo io Vabbè, questo primo è andato abbastanza bene Potevo fare Doc però Thermite mi ha fatto capire un cazzo Bene così dai Ah, non volevo prendere Bandit ma Praticamente non l'ha preso nessuno L'ho dovuto per forza prendere io, non potevo non prenderlo Drone che Ok Quanti cazzo di droni ci sono Quanto è stupido sto drone Ragazzi voglio fare qua Voglio chiudere qua perché così non possono sparare Da questa parte Sono convinto che sicuro vengano giù Ah, questo è già aperto giù così Un pazzo Fottuto pazzo ragazzi Perché rischiare così? Non lo so Buono, buono ragazzi Ho accappato la squadra buona Bene così Qua la porta è ancora chiusa? Sì Io vado di qui allo strumento Oh ma sono giù Oh my god Eccolo laga, m'ha visto? M'ha visto, m'ha visto? Boom No, no, no No, raga Ho fatto una grande kill a quello Però proprio Questi hanno finito pure i colpi Ho capito che veniva di là Eh, vabbè Col pompa Oh, non mi prendeva eh Eh, ho fatto una buona kill su Ibana Però speriamo ancora che i compagni Rimangano concentrati Non perdiamo Buono così, buono così Mai così 2-0 raga Andiamoci a portare questa vittoria A casa Di nuovo toucher, raga Questa faccio il nostro bandit Nuovo toucher Purtroppo Ok, qua niente Tranquillo Tranquillo Non è che arriva là? Non è che arriva là? No Ok Quanti mi raccanno? 2? Ok Noo, l'ultimo raga Grande il compagno che ha pushato Ok raga Ok, ok, ok Tutto già dentro Noo, non l'ho ucciso io Fuck you Non ho fatto un cazzo sto cosa Sono un assist Non so a chi Non so a cosa Finalmente Stavolta ho preso Un cavolo Di operatore Che mi piace Cioè la Tra l'altro raga Mi ricordavo che Ambone Era bravo L'ho bruciato 003 Incredibile Ma questa la mettiamo qua Perché sicuramente Ci vanno dentro Qua sentito qualche drone Perché dovevo essere ucciso Dallo zio Attenzione Allora raga Vediamo se riusciamo a fare Quelle del genere So che è molto dischioso Però ci voglio provare Siamo 3 a 0 Raga veramente questo Venendo qua Madonna Oh cazzo Oh cazzo raga Porca Eva Vieni compagno Vieni vieni qua Bravo Capcan Sti cazzi ora Me ne fotte un cazzo Ok Altro fatto Dietro Rolenchiamoli No No raga Stavo proprio guardando lì Stavo mirando Sfortuno No raga No vai Il timing No raga Il timing di merda Vabbè Ho fatto 2 kill Ho aiutato il compagno Almeno sono stato utile Speriamo che i compagni Chiudano sta partita Così andiamo a fare un'altra Perché questa Vediamo Valkyrie Che cosa fa Attenzione Valkyrie Sneaky 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 Vediamo se ci riesce O si fa sentire Ok Questo è quello nel corridoio Stupenda Stata telecamera Che guarda tutto Praticamente Bellissimo Questo sta qui Che grande smoke Non può fare nulla Questo No No Mi ha contraddetto Grandi 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 Veramente Una partita pulitissima Addirittura sono arrivato primo Non so come Anche perché C'è uno che ha fatto 6 kill Vabbè Bene così Ok raga Altra Altra Altro match Praticamente Con i stessi di prima Per fortuna Sono riuscito a Ho messo a continuare Come squadra E Sono con loro E quando giocate da soli Vabbè almeno in questo caso Io quando gioco da solo È una manna da dio Il fatto di poter Riuscire a giocare contro Con Con delle persone Che magari sono brave Ecco Mi conviene fare più partite con loro Assolutamente Una cosa strana Hanno scelto di votare Tutti e quattro A sala da biliar Non attico Questa cosa qua Non l'ho capito sinceramente Dato che io odio Difendere qui Che è difficilissimo Raga Secondo me Sarà la biliar Qua è veramente difficile Da Da difendere Ecco forse qualcuno Si potrebbe roppare Da qui Eccolo Eccolo Rischiamo Bella Quanto mi piacciono Ste kill rubate Sicuro c'è qualcuno Sopra Quindi raga Meglio da non rischiare Ho preso il filo Asminato e non Buono Ho preso il filo Asminato ragazzi E non il coso Raga ma se facessi una cosa del genere Secondo voi Ma è qua fuori Oh nice Dove cazzo Dove cazzo è il coso raga Oh è entrato questo E' entrato raga questo Ma no Che ritardo Dai Ma che merda è Basta essere individuato Dove cazzo è il drone Sulla televisione Eccolo Ottimo raga Abbiamo iniziato la grande Sto match Sta partita la grande Dobbiamo iniziare Se non è questo è qua No Pure lì Ah è proprio laggiù Bella 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 ragazzi Spada ragazzi Mi raccomando un like Per questi video Perché C'è raga Assolutamente Per cortesia Ok raga Ibana Perché così possiamo Vediamo se sponchillano Sembra che no No Fate il drone Il compagno buono Il drone La telecamera No 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 Ma come raga Come ha fatto a morire Porca Vieni tranquillo bro Tranquillo bro Abbiamo paura di morire La telecamera si è spinta Ragazzi Non ci credo La telecamera si era fottutamente spinta Ragazzi Devo entrare Perché se no qua non entriamo più Questo sta dronando Io potrei fare un bel wallbang Ok ce n'è uno qui Ce l'ha qui Ce l'ha qui Ce l'ha qui Ce l'ha qui Affanculo Madonna Che sminata Porco Che sminata Qui a terra non c'è nessuno Ragazzi Devo dronare Sono stato individuato da cosa Dal valchire del cazzo Grande Dove cazzo valchire Ragazzi Ci provo Ragazzi Entra 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 Eee Seee 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 Andiamo così Ragazzi Che partite sto facendo Porca Continua Ragazzi Voglio anche qui un altro 4 a 0 Credo sia impossibile Però ci proviamo Io devo mettere una cosa qui Per capire se vengono da questa qua Da questa parte qui E quindi che la devo mettere uno qua dentro Ok Così sto bene Da dove arrivano Ce n'è uno già qui Ho messo una cosa qui raga Varicata qui Perché E' capitato una volta che mi hanno Wallbang out Infatti l'ho fatto già io Prima Qui c'era un drone Porca Quante ce ne sono Porca Quante ce ne stanno Eh vabbè Hanno aperto però Bastardi Ok What Ah l'altra parte Noo Che c'ha la mascherina Ibana La vedo brutta questa raga What Abbiamo difesa male Stanno giù in cucina E non sono andata E non sono andata in E non sono andata in Come cazzo si chiama In attico Stranamente Vediamo No salva salve il drone Salve il drone Goduria Goduria La chiamavano Goduria Ho preso toucher Perché pensavo di aprire lì Invece Serve un cazzo Toucher qui Vabbè Lasciamo perdere raga Qualcuno fa lo sbalorditivo No Non sono troppo Buffoncelli questi Raga Wall bank Raga io una la butto qua Tutti quanti lì raga Siete seri E una qua la devo mettere Perché Se capita Può capitare Oh no 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 Raga che timing Che timing Eh vabbè No vabbè Non muore Non muore Guarda quanta energia Non è morta Quanta vita del cazzo Guarda Ha sparato a caso Por culo di merda Guarda Che culo di merda Ma poi il timing Del cazzo Il timing Appena buttò il drone Quello che la spacca Non muoio no Spero che la La butto alla terra Dai asci No Grande montagne C'è una frost Quindi montagne È molto molto difficile Lì salire Uh la butto alla terra Asce Grandissimo Eh c'è qua dietro Sta qua dietro Sì Lo sento Lo sento Entrate però No 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 Lo sapevo che montagne Faceva così Grande grande Terramatica Ce la fa No l'altra parte L'altra parte L'altra parte Grande Grande Ragazzi è importante Questa vittoria Se no si andava sul 2 a 2 Non si finiva più Ok ragazzi ci siamo Qui non lo troverà mai Ho preso Ela Perché abbiamo fatto Una buona prova prima Quindi rivediamo Ela Ela madonna Sembrava un drone Twitch questo Sono già lì Ragazzi ma ce l'ho Ce l'ho qua Ok ferito Grande Ma no Quanto Quanto me li sono chiavati questi Porca Eva no Doc 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 Grande doc doc Grande doc No 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 raga Per salvare me Devo vendicarlo Basta Basta Indito armi Dove cazzo sta il drone Grande bro Questo viene da qua Grande Raga quanto sono migliorato Col tempo A parte i scherzi Ero un nabbo del cazzo Potete migliorare tutti Dai così 4 a 1 Grande squadra Di nuovo 8 kg 8 2 2 raga Grande prestazione Spero che questo Che è questa mano Che è questa mano strana Di questo così Due volte ragazzi Il migliore della partita Lo accetto volentieri E nulla raga Fatemi sapere con un like Se volete altri video Se arriviamo a 500 like Vi giuro che ve li porto Cioè È un regalo di inizio anno Diciamo questo Per l'inizio dell'anno Contro Pradino 3 Pradino 2 Non dovremmo avere tanti punti Siamo in una trentina 33 perché abbiamo Un diamante pure in squadra Io continuo a giocare come squadra Raga Spero che il video vi sia piaciuto Un bacione Ciao Ciao Ciao